Turni di 26 ore di lavoro per una paga di 1,50 euro l'ora. Con le accuse di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cittadini stranieri, gli agenti del commissariato di polizia di Paola hanno arrestato da Mantea, in provincia di Cosenza, sette persone finite ai domiciliari sequestrando un'azienda agricola. Questo, l'esito dell'operazione Uomini e Caporali, coordinata dalla Procura della Repubblica di Paola, sono state le stesse vittime a denunciare tutto alla polizia, riferendo dei turni di lavoro massacranti, delle minacce e degli insulti subiti. I braccianti, provenienti dal Bangladesh, vivevano in un appartamento sovraffollato, con bagni guasti e su pochi letti, sette in una stanza di 70 metri quadrati. Ai migranti non era riconosciuto alcun diritto, né ferie, né straordinari o copertura assicurativa e previdenziale. A differenza degli altri lavoratori italiani, non potevano pranzare attorno a un tavolo, ma dovevano sedersi per terra. Nessun accorgimento era stato preso in materia di prevenzione del coronavirus. Appostatisi davanti all'azienda agricola, in cui i braccianti lavoravano, i poliziotti hanno constatato che alcuni dei migranti lavoravano senza mascherine. Erano due connazionali a procurare gli alloggi e a garantire la conservazione del posto dietro pagamento di somme di denaro. Grazie a tutti.